9 i decessi odierni registrati nelle Marche ma in realtà quelli riportati nel bollettino delle 19 del Gores di Ancona sono 12 dato che sono stati aggiunti altri tre casi avvenuti nei giorni scorsi e non riportati nei bollettini precedenti. 3 donne e 9 uomini a testimonianza che il virus ha fatto più vittime tra la popolazione maschile rispetto a quella femminile. 834 quindi è il totale delle vittime marchegiane dall'inizio dell'emergenza sanitaria. 521 maschi e 313 femmine per l'appunto di cui ben 456 nella sola provincia pesarese che ha pagato il prezzo più alto in termini di vittime da covid-19. Continua intanto lo screening della popolazione attraverso i tamponi che hanno evidenziato 57 nuovi casi positivi nella giornata di oggi sui 907 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Il totale dei positivi sale quindi a 5.826 su un totale di 28.000 test dall'inizio del conteggio. Dei 5.826 casi positivi sinora registrati, 2.333 sono in provincia di Pesero Urbino, 1.737 nella provincia di Ancona, 922 a Macerata, 391 a Fermo, 271 ad Ascoli, mentre sono 172 i casi fuori regione. Salgono però anche i numeri positivi arrivando a segnare quota 1.792 per i dimessi o guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono arrivati a quota 872. Diminuisce anche l'impegno delle terapie intensive, 80 attualmente sono quelli impegnati, di cui 10 a Marche Nord e 23 a Torrette. 560 sono in terapia non intensiva e 232 in area post-critica. Sono invece 2.340 i malati in isolamento domiciliare. Infine, completando la schiera di numeri, sono attualmente 7.770 i casi e contatti in isolamento domiciliare volontario, 24.571 in totale dall'inizio dell'emergenza Covid, 1.270 però gli operatori sanitari in quarantena.